Un'economia tra luce e ombre, quella abruzzese del 2018, fotografata dall'ultimo rapporto economico della Banca d'Italia. Un'economia che ancora stenta a dirsi del tutto fuori dalla lunga onda della crisi economica partita nel 2008. Dopo dieci anni, quella crisi fa ancora sentire le sue conseguenze, così come pesano le incertezze a livello italiano ed europeo. Nel 2018 il PIL abruzzese è cresciuto di mezzo punto percentuale, ossia un terzo dell'espansione registrata nell'anno precedente. A indebolirsi è stata particolarmente l'industria, ma anche il terziario. Migliora leggermente l'occupazione, soprattutto quella dipendente, e l'aspetto più importante, quello che genera speranze per il futuro, è che accresce l'occupazione giovanile. A fare il punto del quadro economico abruzzese è la nuova responsabile della filiale regionale della Banca d'Italia, che ha sede all'Aquila, De Alma Fronzi. Sono emozionata, ha detto Fronzi, arrivata all'Aquila da pochi giorni, avendo ricevuto il nuovo incarico da giugno. Il mio è un ritorno all'Aquila, ha detto, avendo lavorato qui già negli anni 80 e sono felice di trovare una città cambiata in meglio e che ha saputo rialzarsi dopo il terremoto. Abbiamo un indebolimento dell'attività produttiva nell'industria, dove però registriamo un andamento positivo delle imprese con maggiore propensione all'export e un indebolimento anche nel terziario, in particolare per il commercio e i trasporti, mentre sono aumentate levemente le presenze turistiche. Le esportazioni sono aumentate del 3,9% grazie all'aumento delle vendite dei mezzi di trasporto, dell'alimentare e del Made in Italy, mentre un andamento levemente negativo si è registrato per la meccanica. Abbiamo poi, per quanto riguarda l'occupazione dei dati positivi, l'occupazione è aumentata dell'1,6%, in particolare per quanto riguarda i lavoratori dipendenti e è aumentata l'occupazione anche per i giovani. Questo è un segnale positivo anche se c'è stato un rallentamento nella seconda parte dell'anno. Nel settore delle costruzioni si è visto un aumento sia delle compravendite, sia dei bandi per l'esecuzione degli investimenti pubblici. Abbiamo poi la zona del cratere Aquilano, dove le costruzioni in questi dieci anni ovviamente hanno registrato un'attività intensa, con riflessi positivi anche sull'economia dell'area. Poi altri dati per quanto riguarda le famiglie, le famiglie hanno avuto un lieve aumento sia del reddito sia dei consumi, reddito prevalentemente da lavoro dipendente.